Ieri il sindaco Francesco Spina, la dottoressa Portincasa, responsabile della macro area Baribat di Acquedotto Pugliese e gli ingegneri dell'AQP di Scipio e Notar Nicola hanno presentato il progetto di riutilizzo in agricoltura delle acque depurate nel corso di una conferenza stampa nei pressi del depuratore bicegliese. Ascoltiamo. Sindaco, in che cosa rappresentano questi lavori di adeguamento e potenziamento del depuratore cittadino per la città di Biceglie? In primo luogo è un aspetto che qualifica l'impegno per l'ambiente di coloro che rappresentano le istituzioni di questo territorio. Ringrazio l'Acquedotto perché con celerità sta portando avanti questi lavori che avevamo richiesto da molto tempo, lavori fondamentali e importanti per eliminare il cattivo odore e per potenziare anche la depurazione, rendendo il nostro mare più pulito. Ma in più oggi portiamo anche una bella notizia che il Comune di Biceglie è già pronto a partecipare a quelli che saranno eventualmente i bandi per i quali la Regione Puglia, col Presidente Emiliano, ha chiesto una disponibilità proprio degli enti comunali. Abbiamo approvato un progetto preliminare per un quadro economico di circa 30 milioni di euro per un impianto di riutilizzo delle acque reflu. Sarà questa un'opera straordinariamente importante non soltanto per l'ambiente ma soprattutto per fornire ai nostri agricoltori quell'acqua indispensabile per rafforzare ed economizzare naturalmente le loro attività di produzione. In che cosa consistono questi lavori di adeguamento e potenziamento del depuratore qui a Biceglie? Il depuratore di Biceglie sarà oggetto di interventi importanti, innanzitutto di copertura di tutte le stazioni responsabili della produzione di cattivo odore, quindi tematiche lamentate nel tempo a fine lavori, quindi stiamo parlando di gennaio del 2017, saranno un lontano ricordo. È chiaro che nel frattempo continueremo a fare, come stiamo già facendo, tutto quello che è possibile con le attività gestionali di conduzione quotidiana per minimizzare il fenomeno, addirittura zerarlo. Bicegliesi se ne stanno già rendendo conto che il fenomeno si è ridotto di tanto. Poi ci sarà un adeguamento per produrre un reflu che non solo rispetterà la tabella 1, che è quella che deve rispettare perché scarica in mare, ma anche la tabella 3, quindi riducendo anche l'apporto di nutrienti, quali azoto e fosforo, che possono, teoricamente, insieme a tutti gli altri scarichi che ci sono, portare un'utrofizzazione del mare, quindi crescita abnorme di alghe. In più, un miglioramento anche del trattamento dei fanghi, che ci permetterà di separare la frazione dei cosiddetti fanghi primari, che sono quelli più sporchi, diciamo così, dai fanghi secondari, che sono quelli più biologici, per poter anche destinare in maniera diversa questi fanghi. Quindi mi piace dire sempre che i depuratori non producono dei rifiuti, ma i depuratori sono delle risorse e producono due risorse importanti. Una è l'acqua, di cui ha già parlato il sindaco con l'ipotesi di affinamento e utilizzo in agricoltura, in una regione che non ha fiumi, è una cosa fondamentale. L'altro è un prodotto che si chiama fango di depurazione, che può essere tranquillamente utilizzato direttamente in agricoltura come ammendante, quindi per migliorare la qualità del suolo.